Adesso è ufficiale. La prefettura di Messina ha pubblicato sul proprio sito internet il bando pubblico per l'affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri. Si tratta del capitolato d'appalto cui possono concorrere i titolari delle strutture private che intendono mettere a disposizione i propri immobili come centri temporanei di accoglienza per l'ospitalità degli immigrati. Una distribuzione che sul territorio della provincia di Messina vedrà la dislocazione di 2.209 migranti sulla base del piano nazionale di ripartizione di rifugiati e richiedenti asilo. Entro la scadenza fissata per le ore 10 del 24 luglio prossimo possono essere presentate le buste con l'offerta economica con la richiesta del corrispettivo pro capite per ciascun immigrato ospitato e l'offerta tecnica con i posti complessivi offerti l'ubicazione e la tipologia delle strutture. La struttura dovrà quindi assicurare una serie di servizi individuati nel disciplinare dalla mediazione linguistica all'assistenza sociale e psicologica, dal supporto all'integrazione e all'assistenza sanitaria, dai trasporti al vitto sino alla dotazione di kit di abbigliamento. La valutazione delle offerte relativamente ai posti disponibili sarà quindi bilanciata in base al piano di ripartizione nazionale che determina già a priori i posti per ciascun comune sottraendoli eventualmente a quelli occupati nei centri che già ospitano gli posti SPRAR. Così, a puro titolo esemplificativo, a Capodorlando tolti i 36 posti SPRAR, ne resterebbero ancora 19. A Barcellona 122 sui 171 totali. In strutture di Patti e Sant'Agata Miditello, centri senza SPRAR, ancora per fare qualche esempio, potrebbero invece essere ospitati 55 e 52 migranti. 18 a Torrenova, 19 a Caprileone, a Brole ad Acquedolci 24, 29 a Gioiosa. A Galatima Mertino, infine, per cui il piano non conteggia i minori già indirizzati dalla regione al centro ex Margherita, ne andrebbero invece ancora 11.